Sesta edizione di Roma Fiction Festival e per cinque edizioni è stata diretta con mano di velluto e nel guanto di ferro da Steve Della Casa, che è il direttore. Allora Steve, questa sesta edizione che cosa ci regalerà? Questa sesta edizione ci regala una bellissima collezione di prodotti che arrivano dal resto del mondo, dagli Stati Uniti, dall'Europa, anche da altri paesi. Abbiamo cercato di internazionalizzare molto il festival, anche se la fiction italiana rimane uno dei capisaldi sui quali ci muoviamo. Dall'estero arrivano tanti prodotti firmati BBC Worldwide, BBC come tutti sanno è una delle emittenti più famose del mondo e credo che Great Expectations con Gillian Anderson che riceverà il premio alla carriera oppure Jack the Ripper, la nuova storia dello squartatore di Londra o anche lo Sherlock che viene presentato in anteprima, siano dei prodotti molto interessanti. Dall'America c'è Vintage con il ritorno di Dallas ma anche molte cose nuove, parecchio interessanti, i semi-vampiri di True Blood e altre serie che sicuramente saranno tra quelle che saranno più amate dagli spettatori italiani. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo cercato di dare grande visibilità agli attori che fanno fiction, con le giornate degli attori che prevedono incontri con Beppe Fiorello, con Gravel Garco, con Raubova, con Luca Argentero e con Vittoria Puccini. Quindi cinque nomi popolarissimi ai quali si aggiungono i quattro nomi della retrospettiva che sono Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Franca Valeri e Loretta Goggi. Insomma abbiamo cercato di fare un mix tra anticipazioni e volti che siano importanti, amati dal pubblico e una miscela che crediamo possa fare un bel festival della televisione che poi è il motivo per cui ci siamo. Grazie Steve. Grazie a tutti